Non è va bene? Rivedete dopo di me A Gu Eeeh Che lei come stanno nelle acque di noi Hai capito? Ma come sa io La mia madre e lui C'è una tona belluna Oh nooo No 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 Però diciamo da E' un esempio Un canapico dell'acqua di Che mi racconti Che mi racconti Ah Mio figlio Siete 10 anni c'è la massima Adesso devi dare trovare la massima Dice l'acqua che sono Perché quando rombo Mi senti il nostro problema che c'è C'è la Questa bocca Non lo so Ieri ho vedevo la fotografia di Gioca Quando la figlia di Miole Che aveva fatto il compagno E avevate due con Daniele Si si Non ricordi Massimo Si no Vabbè la furia con Daniele Poi con Daniele Non sono stata io Ho capito Ho capito C'è Puzzo eh Un bacio grande Massimo Ciao ciao Un bacio grande Massimo Ciao ciao Un bacio grande Massimo Ciao 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 ciao